Vangelo del giorno, con breve commento, 26 luglio 2023, memoria di Sant'Anna. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Beati i vostri occhi, perché vedono, e i vostri orecchi, perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Parola del Signore Chi è Gesù? È il Messia di Dio, venuto sulla terra per portare la parola di Dio. Ora i Suoi discepoli sono di fronte al Messia di Dio. Beati i vostri occhi, perché vedono. Gli israeliti attendevano la venuta del Messia, e molti profeti e molti uomini e donne giuste attendevano questa venuta, desideravano ardentemente questa veduta. Vi ricordate il vecchio Simeone nel Tempio, quando viene presentato Gesù bambino? Cosa dice? Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Anche Anna, che è la mamma di Maria della Madonnina, la nonna di Gesù, e Gioacchino, il papà di Maria e il nonno di Gesù, uomini giusti, attendevano come buoni israeliti la venuta del Messia, ma mai aspettavano in cuor loro che la loro figlia potesse essere il grembo per cui questa venuta potesse rendersi possibile. E allora questa profezia è anche per noi. Noi vediamo Cristo, perché lo vediamo nella parola, lo vediamo nell'eucharistia, nei sacramenti e soprattutto desideriamo restare con Lui e vivere con Lui per l'eternità.